Greibull ancora disponibile a sostenere FIMER. L'ultima proposta del fondo inglese legato a McLaren è circa il futuro dell'azienda di Terranova Bracciolini, produttrice di inverter per fotovoltaico, occupata da circa 300 lavoratori da due settimane, è arrivata proprio oggi. Dopo che non è stato trovato l'accordo in tribunale ad Arezzo e dopo che il tribunale di Arezzo si è dichiarato incompetente a decidere trasmettendo le carte al tribunale di Milano, oggi Greibull ha diffuso la seguente nota. La FIMER si trova in una situazione di grande sofferenza a causa di decisioni irresponsabili e autolesioniste. Il suo futuro e il sostentamento dei suoi dipendenti sono a rischio senza alcuna ragione valida. La nostra offerta, prosegue la nota, quella di investire e sostenere la FIMER è disponibile da marzo, ma continuiamo ad affrontare ostacoli creati intenzionalmente. Per esempio giovedì sera è stato firmato un accordo definitivo tra Greibull, McLaren e Applied e gli azionisti che è stato presentato al tribunale di Arezzo. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del proprio consulente legale, ha deciso di non approvare l'accordo rendendo così impossibile la sua presa in considerazione da parte del tribunale di Arezzo. Da allora abbiamo cercato di contattare il Consiglio di Amministrazione e gli azionisti per trovare una soluzione, ma non abbiamo ricevuto risposta. Invitiamo gli azionisti ed il CDA a concentrarsi sulle loro responsabilità nei confronti dei creditori e dei dipendenti. Essere azionisti o membri del Consiglio di Amministrazione è una responsabilità, non un gioco, prosegue la nota. Siamo ancora interessati a FIMER, nonostante i danni significativi subiti nelle ultime settimane all'azienda, del resto non resta molto tempo.